Il lavoro della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che secondo l'articolo 135.4 primo periodo del regolamento il presentatore di ciascuna interrogazione ha la facoltà di illustrarla per non più di un minuto. Dopo la risposta del Governo l'interrogante ha il diritto di replicare per non più di due minuti. Parola all'onorevole Deida. Grazie Presidente. Con la collaborazione e grazie al collega Prisco chiediamo al Sottosegretario dei chiarimenti sul concorso di 1141 posti per Vice Ispettore del ruolo della Polizia di Stato. Grazie Presidente. 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 delle carriere, ha previsto una generale riforma dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato e uno dei cardini della riforma è stato quello di riaprire la stagione concorsuale, sia per i candidati prognanti della vita civile, sia per i dipendenti, al fine di colmare le carenze organiche e di riattivare le progressioni di carriera. Nello specifico, la razza delle procedure concorsuali interne è quella di aprire nuovi concorsi di carriera dipendenti della Polizia di Stato, valorizzandone soprattutto le capacità professionali dimostrate negli anni di servizio. Il decreto legislativo 95-2017 disciplina la materia di concorsi una volta che il riordino sia entrato a regime, prevedendo al contempo l'indizione di specifici concorsi straordinari per una lunga fase istruttoria. Di conseguenza, limitatamente alla fase transitoria, il decreto legislativo 95-17 ha tra l'altro previsto l'indizione di numerosi concorsi interni per accesso alla qualifica di vice ispettori. In particolare il riordino delle carriere prevede che dal 2017 al 2023 siano banditi ogni anno due concorsi interni straordinari, uno per titoli, uno per soli titoli, senza distinzione quindi tra titoli di servizio e titoli di cultura, per la gran parte dei posti da bandire e l'altro per titoli ma solo di servizi ed esami per i posti restanti. La disciplina di questi concorsi transitori è demandata ad un proposito decreto del capo della polizia adottato in data 20 settembre 2017 al fine di garantire uno svolgimento uniforme dei medesimi nel corso dell'intera fase transitoria. Anche prima del decreto legislativo 95-17 la normativa di settore era chiusa nell'articolo 27 del DPR 335 dell'82 prevedeva che l'accesso all'interno al ruolo degli ispettori avvenisse attraverso la forma del concorso per titoli di servizi ed esami. Tale scelta mantenuta ferma appunto dal decreto 95 del 2017 è stata altresì ribadita dal decreto del capo della polizia del 5 marzo 2019 che ha rettificato il citato decreto del 20 settembre 2017 il quale per mero errore nei richiami interni non aveva esplicitamente escluso dai titoli valutabili i titoli di cultura. Di conseguenza nei concorsi finora svoltosi non sono stati valutati i titoli di cultura bensì solo i titoli di servizio con l'effetto di valorizzare al massimo i meriti professionali del personale conseguiti in anni di onorevole carriera a servizio del paese. Il citato articolo 27 del DPR 335 dell'82 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 171 nel 2017 anche sul parere anche sulla base del parere espresso dalla commissione prima e quarta riunite del senato della repubblica in merito allo schema di articolato presentato dal governo. Nella nuova formulazione la norma stabilisce che i concorsi interni per vice ispettore si svolgano a seguito di valutazioni dei titoli genericamente indicati senza limitarsi ai titoli di servizio. La novella si presta ad essere interpretata nel senso che essa sia riferita solo ai concorsi che saranno banditi nella fase a regime del riordino delle carriere e non anche a quelli che devono essere banditi nella fase transitoria destinata a concludersi nel 2023. Un argomento a sostegno di tale interpretazione offerto dal cennato parere reso dalle commissioni prima e quarta riunite del senato che aveva segnalato la necessità di mantenere comunque cito letteralmente ferma la disciplina disposta anche per i concorsi in questione per la fase transitoria del riordino. Anche sulla base di tale indicazione l'articolo 2,1 lettera c del decreto legislativo 95 17 che disciplina i concorsi interni in parola richiama l'articolo 27 del dpr 335 182 applicato dal 2017 per i tre concorsi transitori già splettati effettuando un rinvio che va interpretato come fisso ossia dall'articolo 27 vigente all'epoca l'entrata in vigore del decreto legislativo 95 2017. Sulla scorta di questa interpretazione sistematica è stato pertanto ritenuto che la modifica normativa non incida né sul decreto del capo della polizia del 20 settembre 2017 siccome modificato la successiva decreto direttoriale del 5 marzo 2019 né sui bandi adottati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 172 del 2019 incluso quindi anche il concorso interno per titoli ed esami ai fini della copertura dei 1141 posti per lì ci soddisfa la sua risposta che per i nostri gruppi dell'ordine delle forze di polizia che ovviamente seguirsi di rior di una carriera e decreti e non capivo si capisce che è il personale pianziano che giustamente vanta dei titoli di servizi che vanno premiati e vanno valorizzati ma ovviamente anche i più giovani temevano che la possibilità di vedere sfuggire dal recente passato in cui non venivano poi fatti altri bandi di concorso rimanere fermi nel 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 proprio ruolo quindi grazie grazie passiamo ora all'interrogazione a firma iezi morrone do la parola all'onorevole morrone grazie presidente grazie sottosegretario con l'approssimarsi della stagione estiva e le progressive aperture che ormai da quello che anche propone la questione del rafforzamento dei presidi di polizia nelle località marittime in particolare questo vale per la riviera romagnola dove nel periodo stagione propri residenti evidentemente a parere degli interroganti insieme a collega iezi lo scorso anno purtroppo il ministero degli interni decise di non inviare pertanto durante la stagione le varie preoccupazioni che poi sono scaturite poi anche in problemi che tale decisione ha concretamente comportato in termini di quella che era una mancanza di prevenzione repressione dei reati che immancabilmente poi si sono verificati a cesenatico per esempio che era una tra le aree più sensibili lo scorso anno e che era un'unica carenza di organico e così allarmante anche in vista di quelle che sono i voli che sono stati programmati e l'incremento le partenze e l'arrivo che si presume di arrivare nei prossimi mesi quindi grazie 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 Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha già avviato il ciclo di riunioni a carattere interforze volte ad una valutazione congiunta delle esigenze e a definire le possibili misure da adottarsi. Si è già svolta la prima di un ciclo di riunioni per definire il quadro delle unità di persone disponibili per rinforzo estivo e degli interventi da attuarsi sulla base delle proposte formulate dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza. In questo contesto non si mancherà di valutare anche le istanze formulate dai prefetti delle province che si affacciano sulla riviera romagnola, nell'ambito di una pianificazione che dovrà comunque tenere conto delle necessità emergenti in alti distretti del territorio nazionale e delle risorse che potranno essere destinate alle misure in argomento. Va anche ricordato che in generale le questure della riviera hanno comunicato che attueranno nella prossima stagione estiva una serie di servizi sulla base dei moduli definiti da una direttiva del Dipartimento di Ramate il 23 febbraio 2021. Nello specifico, alla luce della citata circolare e degli ottimi risultati raggiunti nello scorso anno, saranno attivati i servizi di ricezione delle denunce nelle località balnearie e saranno implementati piani straordinari di controllo del territorio, con lo sviluppo di iniziative alle quali parteciperanno anche le ipote dei reparti di prevenzione crimine. Tale iniziative saranno finalizzate al contrasto dei fenomeni criminosi più diffusi durante la stagione estiva nelle località balneari e si svolgeranno con particolare frequenza durante fine settimana e il prossimo mese di agosto, in coincidenza con i maggiori flussi di turisti. In questo contesto sono stati già definiti alcuni target delle prossime operazioni straordinarie di controllo del territorio che si svolgeranno nella riviera riminese, in particolare nel comune capoluogo, in quelli di Bellaria, Igemarina e Riccione e nella provincia di Ravenna, con particolare riguardo al comune di Cervia e alla nota località turistica di Milano Marittima. Inoltre, per la specifica situazione di Cesenatico, il questore di Forlì-Cesina potrà attivare una serie di mirati servizi nell'esercizio dei poteri rientranti nelle proprie ordinarie attribuzioni volte ad agevolare la ricezione delle denunce, nonché mirate forme di controllo del territorio. Per quanto concerne la situazione dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, in via preliminare, preme evidenziare che con la soppressione del relativo posto di polizia di frontiera avvenuta nel 2013, le relative funzioni sono state devolute alla questura di Forlì-Cesina. Per effetto di ciò, furono trasferite alla questura 37 unità di personale, mentre altre 5 furono assegnate al compartimento della polizia stradale Emilia-Romagna e 3 unità al compartimento polizia ferroviare Emilia-Romagna e 2 al centro, addestramento della polizia di stato di Cesina. Attualmente, secondo quanto emerge dal piano dei voli programmati, nell'aeroporto Ridolfi operano 3 compagnie aeree. Nella prospettiva di un rilancio del volume del traffico aereo su quello aeroscalo, la zona polizia di frontiera di Bologna ha assicurato per le esigenze di polizia di frontiera nell'aerostazione la formazione specialistica di un'aliquota di personale pari a 12 unità della questura di Forlì-Cesina nei settori dei controlli di frontiera e della security aeroportuale. Tale personale, nella seconda decade dello scorso mese di marzo, ha effettuato una sessione di train of job presso l'ufficio polizia di frontiera aria di Bologna. Inoltre, il Dipartimento dell'APS ha assegnato 7 dispositivi informatici dotati del sistema informativo di frontiera SIF per l'esplettamento dei controlli presso l'aeroporto di Forlì. Con riferimento al quadro appena delineato, informo che le prefetture di Forlì-Cesina, Rimini e Ravenna hanno affrontato recentemente in diverse riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nonché in riunioni tecniche di coordinamento delle forze polizia i temi connessi al rafforzamento dei dispositivi e dei servizi di controllo del territorio. Ringrazio il Sottosegretario per la risposta approfondita nella consapevolezza di quelli che sono stati i problemi connesse all'anno pandemico dal punto di vista della sicurezza. Ritengo questa risposta interlocutoria nel senso che apprezzo l'apertura a rafforzare nei mesi estivi e in particolare in agosto i presidi di località di villeggiatura delle tre province romagnole che si affacciano sulla costa adriatica, nella generale consapevolezza che deve essere tutelata la sicurezza dei turisti, dei residenti e delle locali attività. Credo che come gli altri anni sia essenziale un raccordo anche con prefetture e questure e sia interessante per verificare quelle che sono poi le necessità emergenti e rafforzare così i presidi stessi. Nel contempo sono certo che il Ministero non solo sarà vigile su ulteriori richieste e saprà accogliere positivamente quelle che sono sulle situazioni urgenti. Per quanto riguarda l'aeroporto forlivese, apprendo dell'attività di formazione specifica di personale addetto alle operazioni di polizia di frontiera e delle dotazioni informatiche per espletare i necessari controlli e ringrazio. E per quanto riguarda lo scalo, ha iniziato da poco l'attività, ma in prospettiva di un previsto e auspicato aumento del traffico aereo, credo sarà indispensabile rivedere le dotazioni di operatori di polizia adeguatamente addestrate. Grazie. Grazie, passiamo ora all'interrogazione. Prima firma Alemanno e Baldino, parola all'onorevole Alemanno. Grazie Presidente, col suo consenso la dare per letta. Allora, parola al Sottosegretario Muffini. Grazie Presidente. La vicenda sulla quale l'onorevole interrogante pone l'attenzione trae origine da una segnalazione fatta per venire a due consiglieri del Comune di Nardò, relativa a delle firme apposte sui moduli per la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale nella tornata elettorale delle elezioni amministrative del 2016, che, a dire del segnalante, sarebbero state falsificate che, ciò nonostante, sarebbero state autenticate dall'allora consigliere comunale Giuseppe Mellone, attuale sindaco in carica del Comune. A fronte di tale segnalazione, nel periodo compreso tra novembre e dicembre 2020, alcuni candidati alla elezione del 2016 hanno effettuato una verifica, mediante accesso agli atti depositati presso il Comune, constatando che la firma presente sui moduli in parola sarebbe stata apocrifa. A seguito di ciò, esse hanno presentato denuncia presso la locale compagnia della Guardia di Finanza in merito all'accaduto. Dal primo riscontro è emerso che i candidati citati avevano bensì firmato l'accettazione della candidatura, ma utilizzando un modulo non conforme alla normativa. Successivamente, un soggetto allo Stato ancora non identificato avrebbe compilato i nuovi moduli, questa volta corretti, ma ponendo su di essi le firme falsificate dei candidati, facendole poi autenticare. In seguito alla denuncia formalizzata presso la Guardia di Finanza è stato instaurato un procedimento penale attualmente in corso. È da sottolineare che nel febbraio 2021 è stata asporta denuncia contro i gnoti per un furto avvenuto all'interno dell'ufficio elettorale del Comune di Nardò, dal quale sarebbero stati trafugati i fascicoli delle candidature delle elezioni amministrative del 2016. Anche in questo caso il procedimento penale risulta in corso. Alla luce della situazione appena delineata, assicuro che la Prefettura mantiene costante l'attenzione e che non mancherà di valutare ogni ulteriore elemento rilevante circa le misure da adottare per i profili di propria competenza in relazione all'esito dei procedimenti penali in corso. Se vuole intervenire per la replica. Sì, grazie Presidente. Ringrazio anche il sottosegretario per la risposta che ha voluto fornirmi. Sa bene che le elezioni amministrative sono un momento fondamentale nella vita democratica di un Paese e quindi è necessario fare chiarezza su questa vicenda che sappiamo già essere oggetto di un'indagine che rischia però di gettare un'ombra cupa sulla tornata elettorale di Nardò del 2016. E quindi un consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni pubbliche sappiamo bene essere un pubblico ufficiale. Un ruolo che merita rispetto e che non può assolutamente essere incrinato da ipotetici conflitti di interesse. Inoltre credo che ottenere chiarezza su quanto è avvenuto sia un preciso diritto di tutti i miei concittadini e parlo di Nardò. Le istituzioni meritano rispetto perché rischiano di perdere la credibilità agli occhi dei cittadini se non sono trasparenti. Per questo dobbiamo rendere conto alla cittadinanza anche di vicende opache come questa sembrerebbe essere. Io la ringrazio ancora. Grazie, passiamo ora all'interrogazione. Prima firma, Gevard Silli. Immagino l'Orevole Silli voglia illustrarlo. Sì, molto velocemente. Una coppia di cittadini cinesi residenti in Italia erano prossimi alla separazione e sembrava che si trovassero d'accordo su chi avrebbe e in che modo avrebbero gestito i figli se non che a un certo punto il padre ha iniziato a non far vedere i figli alla madre, la madre ha intimato al padre di non lasciare il paese, di non lasciare l'Italia e i nonni paterni hanno tradotto, perché questo è il termine giusto, in Cina i tre nipotini, tutti ovviamente molto piccoli, minorenni. È chiaro, signor sottosegretario, che questioni che hanno competenza del Ministero della Giustizia piuttosto che altro non le saranno richieste. La mia domanda è di capire realmente come possa essere possibile che al varco di frontiera, a Malpensa o a Fiumicino, tre minori accompagnati dai nonni senza autorizzazione dei genitori insieme e congiunta possano lasciare il paese. Di fatto ad oggi, dopo quello che è avvenuto, questi bambini non si sa realmente dove siano sul territorio cinese che è piuttosto vasto. Grazie. Parola sottosegretario molto. Grazie Presidente. L'atto parlamentare in argomento si riferisce alla denuncia di una cittadina cinese residente a Prato, madre di tre figli minori conviventi, con il suo consenso presso il padre di nazionalità cinese, anche lì residente a Prato, e dal quale la cittadina cinese in questione è di fatto separata. Nello scorso mese di luglio, la cittadina cinese avrebbe appreso da un conoscente l'intenzione del marito di portare con sé i figli in Cina. E insospettita dal fatto di non riuscire ad avere più contatti neppure telefonici coi figli, la medesima ha diffidato formalmente, mediante un legale, il coniuge dal portare i propri figli minorenni fuori dall'Italia. Poi, a causa del persistere dell'impossibilità di contattare i figli e i suoceri, la cittadina cinese interpellava alcuni parenti del paese di origine, apprendendo da essi che i suoi tre figli si trovavano effettivamente in Cina. A quel punto, il 20 agosto del 2020, la donna sporgeva denuncia alla locale questura. Dalle prime verifiche effettuate è emerso che i nonni paterni e i tre minori erano stati registrati al posto di frontiera dall'aeroporto di Malpensa in data 6 agosto del 2020. All'atto di controllo, da quanto riferito dagli uffici della pubblica sicurezza, non sarebbe emersa alcuna criticità, anche in considerazione del fatto che nessuna evidenza suscettibile di farsi apprezzare quale sottrazione di minori era possibile desumere dalla Banca Dati Interforza, lo SDI, a disposizione delle forze di polizia, nella quale infatti la denuncia di sottrazione di minori, a carico dei nonni paterni, risulta essere stata presentata e inserita il 20 agosto e quindi in data successiva rispetto alla partenza dei minori. Informi inoltre che il 21 agosto del 2020 la questura di Prato provvedeva a trasmettere la citata denuncia della cittadina cinese all'autorità giudiziaria competente. Sì, sono soddisfatto della risposta che mi ha dato il sottosegretario, francamente mi lascia un po' perplesso, perché insomma tre minori che varcano la frontiera, io sono un padre, mia bambina minorenne per varcare la frontiera extra o e alla necessità di avere l'autorizzazione di mia moglie o comunque sia il passaporto con la foto da entrambe le parti. Ribadisco, mi sembra francamente strano che tre bambini minorenni, molto piccoli, accompagnati dai nonni, possano lasciare non l'Italia per la Francia o per la Germania, che sappiamo bene, ma possano montare su un volo diretto in Cina e così scomparire nel niente. Comunque grazie sottosegretario, io spero davvero che la giustizia faccia il suo corso e che la procura, insomma, si sia attivata. Passiamo ora all'interrogazione prima firma Pollastrini, Carnevali Fiano, onorevole Carnevali, prego. Grazie Presidente, grazie sottosegretario Molteni. Con il decreto legge 34 del 2020 è stato introdotto questa disposizione che serviva e serve per favorire l'immersione dei rapporti di lavoro irregolare a favore di laboratori impiegati nei settori dell'agricoltura e alla cura delle persone del lavoro domestico. In base a questa disposizione le domande potevano essere presentate tra il 1 giugno e il 15 agosto del 2020, previa un pagamento di un contributo forfettario di 500 Euro e nel caso della dichiarazione di sussistenza di un rapporto di lavoro regolare andavano aggiunto anche ulteriori somme dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale. Sono trascorsi circa 9 mesi dalla scadenza di questo termine e francamente dai dati che poi illustrerò l'occasione rischia di essere un'occasione a nostro giudizio che è un'occasione persa. Faccio presente che per una buona finalizzazione della riuscita sono stati messi in disponibilità le risorse per l'assunzione di 800 contratti di somministrazione e di contratti interinali che dovevano e dovrebbero poi supportare le prefetture per favorire questa conclusione del percorso di regolarizzazione. Ad oggi a fronti di 207 domande 5% ha visto una conclusione dell'iter e sono 40 le prefetture che su questo momento non avrebbero nemmeno avviate le convocazioni. Faccio presente che questa è una risposta che serve a molte famiglie che possono regolarizzare le loro assistenti familiari a garanzia delle famiglie e a garanzia della laboratrice così come possono essere impiegati che possono servire all'interno dei settori dell'agricoltura. Quindi sono 200 persone che sono ancora in attesa di sapere se la propria domanda andrà a buon fine e nel frattempo sono anche impossibilitate ad accedere pienamente ai servizi e alle prestazioni sociali. Quali sono le interrogative che le pongo? La prima, quali sono le misure che si intendono adottare per volicizzare l'iter delle domande presentate, anche prevedendo la possibilità di concludere la procedura per via telematica, questo è un altro quesito, e se nelle more di questi procedimenti in atto, se non si ritiene opportuno che l'adozione, cioè prendere in considerazione un'adozione di circolari che permetta a queste persone che hanno iniziato l'iter di considerare come cittadini che possono godere dei diritti, dello status di lavoratore regolare. Insomma siamo in una fase di limbo per oltre 200 mila persone, questo è il quesito, io la ringrazio molto. Collega Carnevale, allora, collato di sindacato ispettivo in esame, gli onorevoli interroganti fanno riferimento alla procedura di emersione, meglio nota e meglio conosciuta come sanatoria, dei rapporti di lavori irregolari, prevista dal decreto legge 19 maggio 2020, numero 34 che è gestita dagli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture, chiedendo iniziative per velocizzare la definizione delle relative istanze. Con riguardo alla procedura di emersione citata, occorre precisare che i requisiti per accedere al procedimento e alle fasi della procedura sono disciplinati da due decreti interministeriali, il primo dei quali è adottato il 27 maggio del 2020 su iniziativa del Ministero dell'Interno, alla vigilia dell'inizio della procedura e il secondo l'8 settembre del 2020 su iniziativa del Ministero del Lavoro. In origine il termine per la presentazione delle domande era stato fissato al 15 luglio 2020, ma successivamente esso è stato prorrogato al 15 agosto. Risultano essere oggi complessivamente presentate 207.542 domande. Per la gestione di tale procedimento è stato predisposto uno specifico applicativo informatico, mentre sul sito ministeriale è stato pubblicato un materiale informativo di carattere giuridico e tecnico operativo sull'emersione dei rapporti di lavoro. Occorre anche rilevare su un piano generale che rallentamenti nella trattazione delle istanze sono stati determinati da diversi cause. In primo luogo va considerata la complessità degli adempimenti procedurali che investono le competenze di più amministrazione di prefettura, questura, l'ispettorato territoriale del lavoro e ovviamente l'Inps, articolandosi in plurime fasi endoprocedimentali. In secondo luogo c'è da tenere presente l'impossibilità tecnica di gestire la procedura esclusivamente in via telematica, atteso che il datore di lavoro e il lavoratore devono, dopo la loro identificazione, sottoscrivere il contratto di soggiorno e deve essere consegnata al lavoratore la richiesta di permesso di soggiorno, da neoltrame tramite gli uffici postali della questura. Infine non vanno dimenticati gli effetti della pandemia che ha limitato la funzionalità delle strutture periferiche, il cui personale ha dovuto, quando possibile, lavorare da remoto, riducendo gli appuntamenti con gli utenti. In ogni caso, alla data del 26 aprile risultano fissate 24.008 convocazioni e sono state richieste alle questure complessivamente 19.771 permessi di soggiorno, a seguito della definizione di altrettante pratiche di immersione o di sanatoria da parte degli sportelli unici. Per far fronte all'ingente carico del lavoro il decreto legge 34 del 2020 ha previsto inoltre un apposito procedimento volto ad utilizzare, per un periodo non superiore a sei mesi, prestazioni di lavoro a termine tramite un'agenzia di somministrazione di lavoro. Esaurita la relativa procedura, sono state selezionate le 800 unità destinate a svolgere attività amministrative di supporto agli sportelli unici per la migrazione. Nello specifico, le assunzioni hanno avuto inizio il 22 marzo scorso, con un primo blocco di 328 unità. Allo Stato hanno preso servizio complessivamente 650 lavoratori. Gli rimanenti 150 saranno assegnati alle sedi di destinazione non appena effettuata la pre-assunzione a cura della citata agenzia e la sottoscrizione dei contratti da parte dei lavoratori. Grazie, io la ringrazio molto per la puntualità dei dati che ci sono stati forniti. Noi siamo un paese in cui le storie delle sanatorie hanno lunga data e lunghi governi, quindi non è un'esperienza che viene solo nell'esperienza che abbiamo fatto sull'emersione. Voglio però anche precisare e soprattutto chiederle, io credo che, su un giudizio personale, che quando le persone sono regolari sul nostro territorio, quando hanno la possibilità di svolgere un lavoro, quando hanno la possibilità di avere riconoscimento di diritti e di dovere, questo va bene ed è bene per tutti. Devo dire che purtroppo in molte prefetture ancora queste risorse non sono arrivate, quindi c'è sicuramente un ritardo oppure una fatica nel vedere concluso la parte delle risorse umane che servono per l'emersione del nero, quindi 24 mila domande sulle 200 che abbiamo circa testato prima, vuol dire che siamo ancora praticamente forse a un quinto, quindi questo penso che dà il peso di quanto ancora di lavoro c'è da fare. Io capisco che c'è l'impossibilità tecnica per via telematica su alcune procedure, so anche che invece per altre si potrebbe benissimo fare, perché se no non so perché abbiamo dato un grande impulso alla digitalizzazione in questo Paese, poi se uno deve venire in costura per prendere l'impronte, lo capisco che non può farlo per via telematica, insomma io mi auguro che abbiamo tanti problemi nel nostro Paese, ma chiedo a lei davvero di fare magari una supervisione, una verifica all'interno del Ministero dell'Interno, vedere se si riesce insomma chiudere positivamente questa opportunità. Grazie.